giunge l'ottava edizione il torneo delle città mediovali nella città di cirie nato nel 2005 per festeggiare i cento anni della città di cirie ogni due anni alternandoci con il palio dei borghi 16 città con i loro rappresentanti in costume d'epoca animano la città con il corteo storico ed il torneo equer quattro sono le tensioni lo strappo del drappo il maglio nel cesto la spada nella rocca e per ultima la lancia da giostra saraceni il torneo delle città mediovali è organizzato dall'associazione la spada nella rocca con il patrocinio della città di cirie della torino città metropoli dall ente turismo torino e provincia domenica 17 giugno appuntamento a cirie dalle ore 10 alle ore 18 vi attendiamo numerosi nella città di cirie